come risponde a zio celofan che dice sentire parlare prada di limited è come sentire parlare guardiola di calcio vabbè sono onorato ovviamente guardiola intanto ha perso la finale ah quindi si intende di calcio segue il calcio prada attenzione prada segue il calcio io comunque è come se abbia vinta questa finale cioè sinceramente attenzione prada sul calcio tanto che per questo per quale squadra di fa prada allora io o lazio lazio siamo qualificati certo certo poi sì sì quando giocava ai torni cosa ne pensa della juventus prada commento sulla juventus è successo qualcosa di diverso cioè pirlo tanto in una stagione ha rovinato la sua carriera infatti mi fa ridere la dirigenza della juve della juventus soldi dai non c'hanno soldi e poi fanno i con la super league ospitano lei alla cosa cantanti cioè io li avrei retrocessi in b un'altra volta ok del milano cosa ne pensa del commento sulle grandi squadre sulle più famose del milano un commento sulle grandi squadre c'è solo la lazio di grande ok quindi non è una grande squadra in grande club il milano no vabbè l'inter sono più rispetto di più l'inter del milano un commento sul milano cos'è che non rispetto del milano cosa di brutto è che donna ruma è un cazzo di venduto donna ruma è venduto lei si assume le responsabilità quello che dice questa trasmissione certo di tutti i milanisti e ora detto tu non vuoi venire qua ti la ti butto via parametro zero chiedono se arriverà a sarri chiedono arriva a sarri al milan penso di sì era più di comunque ha fatto bene cioè probabilmente sì non so perché se ne è andato via dalla juve ha vinto uno scudetto questo qui non ha vinto un cazzo la domanda sorge spontanea momenti fa per la lazio lei è palesemente di milano dove stanno rischiato la champions league quest'anno ma chi è arrivato a lei tanto la gente che gli piace questo argomento quindi prada da quante che segue il calcio si ritiene un esperto un po di calcio si intende molto io sono laureato in scienze motorie quindi non posso avevo predetto comunque primo gol del celsi pensavo in un 3 0 del celsi o nel 2 1 del city però il primo gol del celsi l'avevo non ho capito quale qual è il cioè qual è il collegamento fra la laurea in scienze motorie e la santo come dire la cultura calcistica qual è il collegamento cioè del segnamento dello sport no non capisco per quale motivo cioè nel senso detto tipo è ovvio che nemmeno intendo di calcio sono laureato in scienze motorie ti lavorerai a hogwarts mi saprei dire qual è il nesso tra te e magic la questione è questa io non me ne intendo assolutamente di calcio non ne so assolutamente nulla diciamo che io di calcio ne so quanto prada ne sa di magic proprio per come dire sublimare quello quello che io voglio dirvi quindi io io chiedo a voi e volevo chiedere al popolo della magia notturna ma di calcio prada dice cose giuste sta dicendo l'ha detta qualcosa giusto comunque tra parentesi non per dire cose che hai vinte le mie due uniche rare erano il 76 e una terra doppia sì e vabbè ma questa è colpa sua che non le ha piccate rischiavo di perderla non è vero abbiamo sempre avuto la situazione sotto controlli non so quanti ce n'avevi di rara e qualcuna ce l'avevo però non te l'ho giocato un fior di non comuni sì certo vabbè ma quella è stata abilità mia nel draftare il mazzo giusto scusi e ci avevi anche il 76 che non ti è arrivato 76 comunque non è rara non è rara 76 che non è il macco raro esatto ma allora ce l'abbiamo una domanda in chat domande chat per prato quattro quale non è una rara non è una rara per niente vediamo se ce l'abbiamo qualche domanda in chat per dottor prato qualsiasi cosa il tema calcistico 76 è forte ci può essere forte dai può essere forte a parte che può giocarlo anche sami in un mazzo elfi e tra il turno 3 qua chiedono qua chiedono se aprirà mai un canale twitch no ma va se già i canali ce li abbiamo a mirano prada come rimorchia le ragazze domanda come rimorchia le ragazze qua chiedono qualche tips e tricks suo che utilizzo c'è qualche tecnica prima di tutto l'umorismo l'umorismo far riso gli occhi poi comunque lo stile c'è comunque l'abito fa il monaco ecco qua di volevo io qua di attendevo al varco al varco quindi in completo in camicia e cravatta allora primo appuntamento allora l'uomo della magia notturna primo appuntamento dell'uomo della magia notturna lei dorme in camicia e cravatta quindi sempre camicia e cravatta sempre elegantissimo dottor prato sempre pronto sempre pronto pelo si ve lo no si depila si depila il petto ma il petto il pub petto e pub si depila vabbè quello si zio c'è ah scusi ah quindi si si depila sia petto che pub tutto su direi è glabbro come come? non ho capito certo minchia che cazzo sono e gorilla c'è ah ok io ne so è normale ok ok chiedo alle ragazze in chart che sono tre sono tre si si stanno apprezzando infatti stanno apprezzando standy collection in chart in bocca non penso che gli piacciono non lo so non lo so vabbè a me non piacciono infatti mi piace rasata ok infatti ma su questo siamo d'accordo sono abbastanza d'accordo buonasera maizar ecco c'è raggiunta un'altra di femmina i giganti carro ce l'hanno rasata ma questo non lo possiamo sapere in realtà il pelo piace anche a ma in realtà il pelo si è vero è vero sono molto molto rai però diciamo che il pelo piace anche in generale piace cioè si sta rinascendo diciamo un movimento del pelo in realtà ma ritorniamo al punto fondamentale lo stile quindi quindi giacca, gravatta, camicia, gravatta giacca che giacca? colori? che colore utilizza? colore? ma giacca come? due bottoni, tre bottoni, doppio petto che giacca? andiamo a vedere un aperto e uno chiuso uno aperto e uno chiuso quello superiore e chiuso quello sotto inferiore immagino aperto giusto? esatto esatto colore? spezzato? spezzato oppure abito dello stesso tutto unico? no a me piace che è tinta unica tinta unica qual è la sua tinta preferita? quella che le dona di più? diciamo che esalta meglio i suoi connotati qual è? vabbè io sono bianco quindi bianco abito bianco posso? può? sì? no no non lo so cosa vuol dire cosa vuol dire? no non lo so che vuol dire bianco? sì bianco vuol dire ma no capito abito 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 bianco abito bianco chi è? John Hammond di Jurassic Park se c'è qualcuno della chat che è contrario e se non sta un metramezzo no? no possiamo ritornare sull'abito non ce ne fai un cazzo di questa storia l'abito bianco vestito di bianco camicia bianca e poi secondo me un pantalone tipo beige e giacca pure beige quindi quindi molto chiaro molto ma lei si veste tutti i giorni così? ma come mi sta bene? ma come secondo me mi sta bene? scusi lei come si veste? vogliamo sapere secondo me no mi piace così ma poi anche il nero col ramato il nero col ramato e la scarpa? la scarpa nera scarpa nera ho il beige metto il bianco ma scarpe prada oppure no? si ovvio ah ovvio scusi giusto che domanda stupida mi perdoni quanto costano le sue scarpe? quelle che lei utilizza tutti i giorni che indossa merda si 400 euro 400 euro scarpa di pelle giusto? spazzolata prada si di pelle di pollo nera ok ok e occhiale? occhiale pure prada oppure utilizza anche altri brand nella tua vita? occhiale devo dire che perché mi piacciono quelli squadrati no? siccome c'è un viso rotondo figo simmetrico piacente non come te che sei comunque un po' allungato no? si non simmetrico si allora mi piacciono di più avendo il viso rotondo molto piacente un po' più squadrati come te invece metti quelli a goccia ci sta ci sta quindi comunque c'è anche uno studio nel senso non è che prendi così vabbè mi dia quell'occhiale no c'è uno studio nel senso uno studio delle forme del viso simmetriche cioè quindi una ricerca nella scelta della giusta forma anche per per gli occhiali per la montatura corretta bene mi piace questa ricerca questa analitica del dottor Prada che non fa nulla non lascia nulla al caso quanto sono importanti i dettagli le sfumature i dettagli poi ci sono quelli rotondi non so per esempio Sammy c'ha gli occhiali che ne so rotondi che sono più grandi della fronte e questo è sbagliato? no a me non è che è sbagliato sono da vista diverso però voglio vedere lei con gli stessi occhiali da sole non si potrebbe vedere è come andare in giro con due fanali neri vero vero mi piace questa sua molto bella se sono trasparenti ok se invece sono da sole secondo me lei ce l'ha squadrati comunque il senso del bello il senso dell'estetica quanto è importante averle l'estetica l'aspetto esteriore quanto è importante? ma guarda al giorno d'oggi purtroppo tanto purtroppo alla fine non ci do neanche cioè sai quando c'è lo stile anche in ciabatte cioè per me ormai non ha neanche così tanto dice lei potrebbe potrebbe uscire vestito anche veramente cioè proprio in muto sì anche a petto nudo col cazzo rasato cioè e lei è delle mie ok estetica quanto c'è la che si è fatto bene che si è rasato bene cioè misura del pisello? misura del pisello? beh quanto basta? qb q.bp come? 18 18 18 di lunghezza di circonferenza? sai che cazzo? è difficile è difficile eh comunque la circonferenza perché cioè quello lì lo uso per prendere le misure del collo quindi non lo uso posso togliermi la mascherina mentre insomma comunque è un bel non voglio impuzzolirlo comunque insomma non ha mai non ha mai deluso nessuno insomma o nessuno potrebbe essere forse 13 o 14 può essere? non lo so può darsi 14 di circonferenza potrebbe essere certo 13 14 cioè che mi ricordo poi io l'ultima volta cioè mi ricordo cioè non è che me lo misuro ogni giorno per vedere se cresce cioè tanto alla fine si tromba al buio ma non chi l'ha detta questa cosa scusa non chi l'ha detta come si tromba al buio scusi forse diciamo le sue concubine tendono a spegnere la luce ma non è detto se tu vedi porno con i riflettori come ce l'hai tu addosso è una cosa diversa cioè non è che c'è una regola proprio standard che si spegne la luce forse preferiscono spegnere la luce loro non capisco estremamente la motivazione per cui però è perché si è ubriachi perché come si è ubriachi come si è ubriachi che vuol dire questa cosa vabbè ma minchia quella luce è accesa ma che cazzo che sbatti no che sbatti comunque sotto le coperte sotto le coperte sì sotto le coperte non so se ti piace più al buio o alla luce allora no dipende dipende dalla situazione no però mi sembra che lei l'aveva espresso come se fosse una regola assoluta sempre da rispettare tre tips sotto le coperte per per gli uomini se no se si fa tardi ovviamente se si fa la mattina presto capita che si tromba in balcone alle 5 del mattino e vedi l'alba però sono molto romantica molto romantica allora chiudiamo chiudiamo con tre consigli trombare all'alba trombare all'alba allora dottor Prada a parte i suoi gusti del trombare all'alba tre consigli se c'hai il porto di Messina davanti no perché il porto di Messina davanti non va bene perché ci sono quelli che mangiano pesce crudo alle 6 del mattino cioè ti fai la pasta un po' la voglia capito il caffè è un po' razzista un pochino le acciughe al posto dello zucchero sbaglio o è un po' razzista del sud d'italia un po' razzista nei confronti del sud d'italia no ma va no sono un po' a Napoli non sono fan perché non è fan di Napoli non le piace no non mi piace no ma poi dicono è la città più bella del mondo i napoletani dicono che Napoli è la città più bella del mondo perché non le piace sì e rimangono a essere a casa loro che vuol dire non ho capito non ho capito perché c'è la bomba la città del mondo cambiale ma perché non ci vuole non le piace Napoli che c'ha di brutto scusi ma no cioè è bella è tutto però è rischiosa cioè non puoi togliere la mascherina mentre parlo come? cioè tipo al semaforo ti rapinano come ti rapinano ma lei è un continuo scadere nei luoghi comuni dai luoghi comuni allora perché la gente non si ferma al semaforo? ma che ha detto che la gente non si ferma al semaforo? lei è un concentrato di luoghi comuni comunque ma non si ferma al rosso zio ma quando vai? ma in tutta Italia bruciano il rosso non è che se lo fanno solo a Napoli che c'entra? ma non è vero ah non è vero solo a Napoli quindi bruciano i semafori eh sì ma gli chiedi in giro la chat fai un sondaggio alla chat ah quindi solo a Napoli solo a Napoli si passa col rosso seri fai il paglioncelli della situazione vabbè 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 lasciamo stare questo discorso razzista da cui io mi dissocio completamente invece facciamo una domanda più interessante e chiudiamo qui ehm questo è colpa delle carceri che non portano cosa dice? ma passa a fare il comizio cosa c'è questo comizio politico? cosa vuole fare il populista antinapoletano? ehm da Napoli per sindaco di Napoli allora che cambia da così a così eh Prada mi ascolti mi ascolti giù mi ascolti compratemi le polizze sì sì dopo tre tre tips che lei consiglia a uomini e donne sotto le coperte quali sono tre comportamenti necessari che non possono mancare nel letto di Prada quindi sia dal punto di vista dell'uomo che della donna tre cose di cui lei non fa a meno sotto le coperte allora lei deve ciucciare piano questo è uno poi cioè è un consiglio a loro a lei poi sì sì cioè non deve farlo soprattutto quando cioè con le mani ok però quando deve ciucciare deve ciucciare lentamente ok perché perché le è capitato il contrario è successo qualcosa di spiacevole perché non sanno succhiare ma chi l'ha detta questa cosa vabbè poi numero due facciato di tutta l'erba un fascio adesso come un consiglio eh sì ok volevo tre consigli tre consigli tre una alle donne poi uno agli uomini posso dire di usare anche le mani mentre si fa quindi a a tre con i tre pollici tre pollici come tre pollici come tre pollici cazzo sono tre pollici che mani c'ha tre pollici è uscito da total recall da dove è uscito ma no vabbè usi tre arti eh tre arti tre pollici poi poi usa tre arti poi sempre a lei vabbè lei non sa cosa dire dai abbiamo capito non sa cosa dire non ce l'ha ma comunque non ce l'ha non ce l'ha non ce l'ha non ce l'ha se le cose migliori per venire capito allora ultima domanda lei si concentra più ti concentri di più sul tuo piacere o su quello della partner o del partner no su entrambi ma sei più concentrato sul tuo piacere o su quello suo o su entrambi alla stessa maniera ma no su entrambi ovviamente cioè a me piace che ne so davanti c'è lei c'è dritto normale che vuol dire c'è c'è tipo quasi quasi seduto capito quasi seduto e poi da dietro sempre toccando c'è bisogna essere lì bisogna toccare lì comunque alla fine è tutto lì date dritti sul clitoride ragazzi dritti sul clitoride va bene chiarissimo è stato stato chiarissimo grazie grazie lo indica sì e andate sul sicuro grazie grazie è stato chiarissimo buonanotte dottor Prada grazie grazie per il contributo speciale ottimo grazie grazie dottore buonanotte buonanotte dottore se le piace in culo devono dirtelo prima grazie a tutti grazie a tutti